Buonasera a tutti sono felice di essere qui per l'apertura appunto della nuova edizione del meeting del mare un'edizione diversa perché siamo ormai al di fuori di quelle che sono le restrizioni della pandemia e sono sicuro che infatti si respira già un'aria differente e che sarà un'edizione che ci riporterà un po' a quelli che sono gli albori di questo festival curato egregiamente da don gianni citro e da tutto il suo staff al quale sono particolarmente legato poiché mi seguono fin dall'inizio della mia crescita artistico musicale e infatti è un'emozione un onore per me essere qui durante questo evento di apertura e essere appunto l'artista di questa serata grazie a tutti grazie a tutti sì sto facendo una tournée internazionale diciamo che con il progetto candlelight col quale sto lavorando molto stiamo svolgendo tanti concerti in europa e seguendo programmi diversi che vanno dalla musica classica delle cover di musica contemporanea e infatti mi fa molto piacere essere riuscito insomma ad essere qui oggi nonostante i tanti impegni di questa stagione estiva che insomma è stata una stagione molto positiva sia per questo che l'evento del meeting che un po per tutti gli eventi in generale sia in italia che all'estero perché stiamo finalmente riuscendo a lavorare con i numeri di una volta e pian piano si intravede la luce dopo tutto questo periodo insomma in cui la normalità ci sembrava molto lontana grazie a tutti 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 grazie a tutti